Ciao a tutti! Allora, due grandi novità sul canale. La prima è il microfono, era proprio ora di comprarlo. La seconda, invece, riguarda Dante. Mi avete fatto notare, infatti, che mancavano dei contenuti su di lui su questo canale. E allora, eccomi qui, d'ora in poi ne parleremo molto più spesso. Cominciamo a parlare di lui partendo da un'opera giovanile. Un'opera che in realtà è tra le più belle della letteratura italiana e che Dante ha scritto quando veramente aveva 18-20 anni. Quindi, datarla è molto complesso, ma più o meno tutti quanti concordano sul fatto che venga composta tra il 1290-93-95, non oltre. È quindi un'opera precedente alla Divina Commedia e vedremo, alla fine, che Dante proprio alla Divina Commedia sembra rimandare quando ci saluta. Questa opera si chiama Vita Nuova, sicuramente ne avete sentito parlare. Già dal titolo ci fa capire che Dante considera ciò che viene raccontato all'interno dell'opera come un nuovo inizio per lui, come l'inizio della sua vita. Effettivamente l'amore per Beatrice, ma io direi più in generale l'amore nella nostra vita, ci porta ad una rinascita, ci porta a farci nascere davvero per la prima volta. E allora in questo video io vi racconterò la vita nuova in generale, affinché questo possa essere anche utile per un ripasso. Ma soprattutto vorrei leggervi degli estratti, perché non dimentichiamoci che prima di essere un'opera che si studia a scuola è un'opera grandiosa da leggere. Cominciamo col dire che un'opera così nella letteratura italiana non era mai stata scritta fino a quel momento. Siamo alla fine del 200, vi ho detto, e mai nessuno si era messo lì a scrivere la propria autobiografia. La vita nuova infatti può essere considerato un vero e proprio diario autobiografico da parte di Dante. Certo, un diario particolare, non come quelli che noi scriviamo oggi, quelli che intendiamo oggi. È piuttosto un racconto di tutta la sua esperienza d'amore nei confronti di Beatrice. Scritto in prima persona, in prosa, e a questa prosa vengono alternati dei componimenti poetici. I sonetti, ci sono 25 sonetti, 5 canzoni e una ballata. Questa caratteristica di unire prosa e poesia è nuova per la letteratura italiana e la possiamo definire prosimetro. La cosa divertente è che nelle parti in prosa la storia va avanti, c'è una vera e propria narrazione, come se fosse un romanzo. I componimenti invece approfondiscono alcune tematiche che sono tematiche autobiografiche, ma anche più in generale tematiche legate ai temi dello stil novo. Infatti questa viene considerata un po' l'opera più grande della produzione dell'intero stil novo italiano. Diciamo che da questo momento in poi non sarà più possibile parlare di vero e proprio stil novo. È come se questo autore avesse portato questa tendenza artistica, questo modo di raccontare l'amore, a livello massimo e lo avesse allo stesso tempo esaurito. Quindi la vita nuova è sia il punto di arrivo di un'intera produzione stil novistica che partiva da Guinizzelli e finiva con Dante, ma è anche il punto d'arrivo di questa stessa produzione. Cosa succede in questo testo? Allora, ci viene raccontato appunto l'incontro con Beatrice. Il primo avviene all'età di nove anni. Dante e Beatrice sono praticamente dei bambini, ma partecipano ad una festa in comune e come succede spesso durante questa festa, i bambini si mettono a giocare tra di loro, si incontrano, fanno conoscenza. Dante rimane folgorato dalla presenza di Beatrice, che tra l'altro porta un bellissimo abito rosso. Nove anni, abito rosso, sono tutte simbologie, sono tutti motivi allegorici. In Dante tutto ciò che viene detto rimanda in qualche modo ad una dimensione di trascendenza, ad una dimensione più alta. L'amore stesso per Beatrice è effettivamente espressione di trascendenza, non è soltanto un amore che ha a che fare con il terreno, anzi, ha a che fare proprio con il divino. E beh, dicevo quindi che Dante e Beatrice si incontrano per la prima volta a nove anni e poi si incontrano una seconda volta nove anni dopo. Sono ormai adulti e Beatrice ormai è sposata. Ecco, fermiamoci un attimo a parlare di questa Beatrice, no? Una donna sulla quale sono state dette veramente tantissime cose. Non sappiamo in realtà fino in fondo se questa Beatrice sia un personaggio realmente esistito o se sia un'espressione, un simbolo dell'amore di Dante, della poesia, della teologia poi nella Divina Commedia. Qua il piano reale e quello poetico si confondono, si mescolano tra di loro. Certo è che una Beatrice nella Firenze di Dante in quegli stessi anni è veramente esistita, è Beatrice di Folco Portinari, coniugata con Simone De Bardi e morta l'8 giugno del 1290. Oggi tra l'altro si trova anche la sua lapide in Santa Margherita dei Cerchi a Firenze. Quindi, insomma, una definizione concreta, reale a questo personaggio riusciamo a darla. Poi il fatto che Dante non avesse avuto veramente relazioni con lei, ma anzi fosse sposato con un'altra donna, Gemma Donati, beh, questo fa sorprendere sempre tanto, soprattutto gli studenti, ma non ci deve sorprendere in realtà che in un periodo come questo Dante preferisca dedicare i suoi componimenti d'amore ad una donna che costituisce per lui ispirazione poetica, piuttosto che alla donna che vede nella quotidianità, con la quale ha dei rapporti fisici, con la quale avrà dei figli. Insomma, questa è una domanda che viene fatta spesso. Perché Dante non dedica le poesie alla moglie, ma le dedica a Beatrice? Perché un'intera vita nuova dedicata a Beatrice in cui non si cita mai, nemmeno per sbaglio, Gemma Donati? Perché le regole nella poesia amorosa del 2-300 sono completamente diverse da quelle che immaginiamo noi. L'amore per Gemma Donati è un amore invece troppo, decisamente troppo terreno. Ma torniamo a noi, stavamo parlando appunto di questo secondo incontro con Beatrice. Beatrice questa volta è vestita di bianco e fa una cosa che genera in Dante una reazione assolutamente comprensibile. Lo saluta e questo saluto emoziona talmente tanto Dante che a un certo punto questo giovane ragazzo, perché questo è nella vita nuova, un semplice ragazzo, corre in stanza, si butta sul letto e ci dice lui Puosemi a pensare di questa cortesissima. Cioè si mette a pensare a lei. Pensando a lei a un certo punto arriva il sonno e in questo sonno lui la sogna completamente nuda. Il sogno non è solo un sogno erotico, è anche un sogno un po' inquietante, in quanto Beatrice è in braccia ad una figura misteriosa che rappresenta l'amore. Lei è avvolta in un drappo sanguigno e nelle mani tiene un cuore. Ve l'avevo detto che era un po' inquietante. Ma peggio, questo cuore Beatrice non lo tiene soltanto in mano, se lo sta mangiando. Insomma Dante si sveglia angosciato, lo possiamo immaginare, ma questo sogno significa più in generale che in lui è arrivato l'amore. Da questo momento non c'è scampo, l'amore infatti gli diceva proprio in latino Ego dominus tuus, ecco il tuo padrone. Ecco da questo momento l'amore si ignoreggia nel cuore di Dante. E Dante ci sta male, ci racconta proprio che i suoi amici addirittura vogliono sapere cosa gli stia succedendo, perché lui ormai è di debole e fragile condizione. Tutti si chiedono che cosa sia successo a Dante, si è innamorato come succede ad ogni giovane ragazzo. La bellezza di quest'opera è proprio qui, nel fatto che Dante ci sta raccontando proprio anche le sue emozioni più intime, sta entrando nella profondità di quello che prova. L'elemento autobiografico ce lo rende improvvisamente vicino, ce lo fa diventare proprio un amico che sta male per amore. Come tutti i giovani innamorati a un certo punto sbaglia. Che cosa faccio è Dante? È in chiesa, questo passaggio ve lo leggo proprio. Vede Beatrice da lontano. A un certo punto si accorge però che nel mezzo di lei e di me, quindi tra di noi, sedeva un'altra gentildonna di molto piacevole aspetto, la quale mi guardava spesso, meravigliandosi del fatto che io la guardassi. Che pareva che sopra lei terminasse. Cioè lei era convinta che io guardassi proprio lei e non Beatrice, che stava dietro di lei. Onde molti si accorsero dello suo mirare e intanto vi fu è posto mente che partendomi da questo luogo mi sentì o dici era presso di me, vedi come ecco tale donna distrugge la persona di costui. Tutti, cioè in chiesa, credono che Dante sia innamorato di questa ragazza e non di Beatrice. E tutti quanti notano questo scambio di sguardi e dicono, vedi Dante come sta male, finalmente abbiamo capito perché sta male per questa donna. Beh, Dante è contento. È contento perché è sicuro del fatto che il suo segreto, cioè l'amore per Beatrice, non è comunicato ad altri. Quindi lui dice, beh fammi approfittare di questa cosa, fammi trasformare questa gentildonna in una donna dello schermo della verità. Cioè approfitterò di ciò di cui si sono convinti tutti per dedicare delle poesie a questa donna, per far credere a tutti che io sia innamorato di lei e non di Beatrice. Insomma, Dante non si fa. Però lui addirittura apprende a dedicarle delle poesie, feci per lei certe cosette per rima. Insomma, Dante qui sta giocando sicuramente con la sua autobiografia, ma sta giocando anche con un tema letterario molto famoso nella poesia cortese, quello della donna schermo. Nelle corti provenzali, per esempio, dove questo tipo di poesia è nata, molti anni prima rispetto a Dante, spesso il poeta, per evitare che si capisse il suo amore per una donna magari di corte sposata, per non metterla in difficoltà, ecco, si dedicava ad un'altra donna, che in realtà era semplicemente una donna dello schermo, ma appunto una finzione. Per evitare che i malparlieri arrivassero alla soluzione, capissero di chi il poeta fosse innamorato, il poeta continuava a scrivere poesie d'amore, ma dedicandole ad altre. Quindi qua vedete come già si sta capendo che Dante, sì, ci sta raccontando la sua autobiografia, ma dall'altra parte ci sta anche delineando un percorso letterario. Dante sta ripercorrendo la letteratura, dalla poesia cortese fino all'arrivo allo stilnovo. Infatti se qui emergono elementi più provenzali, passatemi il termine, andando avanti invece emergeranno temi più tipicamente stilnovistici, addirittura temi cavalcantiani. Cavalcanti è un altro grande poeta dello stilnovismo ed era un grande amico di Dante. Una poesia fatta di dolore, di sospiri, di sofferenza, d'amore. E Dante in una parte della vita nuova riprenderà proprio quel tipo di letteratura, in questo percorso ideale che sta compiendo attraverso i vari stadi della poesia d'amore. Dante ha intenzione di fare una cosa, cioè appunto arrivare ad elevare la poesia d'amore laddove nessuno era mai arrivato prima. Ci riesce, perché effettivamente ripercorre tutti questi passaggi e arriva poi alla fine a compiere un'opera che è tutta sua, che è originale e che allo stesso tempo racchiude i più bei canti d'amore che siano stati fatti in lingua volgare italiana finora. Tra l'altro si mette anche a fare delle cose che a noi continuano a far sorridere. Per esempio, a un certo punto, si mette a fare una lista delle donne più belle di Firenze. Una lista delle 60 donne più belle di Firenze in serventese, ci dice lui, cioè in un tipo di composizione sempre di origine provenzale. Vedete come torna, no? La tematica anche letteraria. Insomma, si sta comportando veramente da ragazzetto che non sa ancora bene cosa sia l'amore. In qualche modo, la vita nuova, se ci pensate, è anche un romanzo di formazione. Forse non lo possiamo chiamare davvero così perché il romanzo di formazione è un genere letterario vero e proprio che arriva molto più tardi rispetto a Dante. E questo non è un romanzo, è un'opera molto più complessa, no? C'è la prosa, c'è la poesia. Però effettivamente si configura un po' come un processo anche di crescita dell'autore stesso. L'autore passa attraverso varie fasi, scopre piano piano vari aspetti dell'amore e migliora nel suo rapporto con l'amore. Capisce cosa sia l'amore davvero. Qua non ci ha capito ancora niente. Tant'è che a forza di scrivere liste di donne più belle ma soprattutto di dedicare poesia ad un'altra donna, Beatrice a un certo punto gli toglie il saluto. Quella gentilissima, passando per alcuna parte, mi negò lo suo dolcissimo salutare nello quale stava tutta la mia beatitudine. Questo è il primo grande colpo di scena. Beatrice toglie il saluto a Dante e ci tengo a sottolineare una cosa. Non glielo toglie perché è gelosa della donna a schermo. Glielo toglie perché Dante sta mettendo in difficoltà la donna dello schermo. Troppa gente, ci dice Dante, ne ragionava oltre i termini della cortesia. Cioè si stanno creando delle dicerie, delle voci troppo insistenti su questa donna e Dante la sta mettendo in difficoltà. E sia chiaro che togliere il saluto a Dante, se ci muoviamo nel mondo allegorico di Dante, è una cosa molto molto pesante. Cioè, di nuovo, qua non c'è soltanto un elemento autobiografico. Dante non riceve più il saluto di Beatrice, Beatrice ce l'ha con lui, Dante soffre. Ma c'è anche un ragionamento più grande sul concetto di salute e di salvezza. Queste due parole italiane, infatti, hanno una base latina in comune, la parola salus. Il saluto, visto in quest'ottica, dona salvezza interiore, salvezza spirituale, salvezza morale a chi lo riceve. Dante, nel saluto di Beatrice, non vede soltanto una forma di interessamento della donna, ma vede anche e soprattutto la capacità della donna di elevarlo. Se vi ricordate un po' cos'è lo stil novo, infatti lo stil novo mette al centro la donna come strumento di passaggio da una fase di umanità più bassa ad una fase di umanità più alta. Cioè l'uomo, attraverso la donna, attraverso l'amore che la donna gli concede, riesce ad elevare il proprio spirito, il proprio cuore, che già per natura deve essere comunque predisposto, deve essere gentile, si eleva verso il cielo. E l'uomo che ama, grazie all'aiuto della donna, riesce a raggiungere la visione di Dio. Allora, togliere il saluto significa bloccare questo processo di miglioramento e di ricerca di una beatitudine che è anche e soprattutto spirituale. Vediamo come reagisce Dante di fronte a questo saluto, no, che viene tolto. Mi giunse tanto dolore che partito me dalle genti, cioè rifugiatomi in solitudine, andai a bagnare la terra da amarissime lacrime. E poi dopo misimi nella mia camera, dove io poteva lamentarmi senza essere udito. Ecco, di nuovo un elemento che ci fa sorridere da una parte, ma dall'altra ci dona proprio un Dante vivo, un Dante che si comporta come ci saremmo comportati tutti noi a 18 anni. Cioè si chiude nella sua stanza a piangere. Pensate addirittura a un certo punto cosa succede. Dante si accorge che durante una festa alla quale sta partecipando, c'è anche Beatrice. E Beatrice è insieme alle sue amiche. E Dante è talmente imbarazzato dalla sua presenza, è talmente sconvolto da questa visione, che prova uno mirabile tremore. Sto povero Dante ci sta per svenire. Addirittura dice che si poggiò a una pintura la quale circondava questa magione. Cioè si deve a un certo punto appoggiare perché sta per cadere. Beh, d'altronde Dante sviene spesso anche nell'inferno, quindi insomma non ci sorprenderebbe vederlo cadere giù come corpo morto cade. E sapete che si mettono a fare, Beatrice e le sue amiche? Vedendo il suo turbamento, lo prendono in giro. Ragionando si gabbavano di me con questa gentilissima. Si prendevano gioco di me. Allora vedete come la situazione ormai è delle peggiori. C'è bisogno di un cambiamento, ma di un cambiamento interiore. Vi ricordo che secondo lo Stil Novo l'amore migliora l'uomo. Non lo fa di certo tremare e cadere a terra. Quindi Dante deve approfittare di questa situazione per capire qualcosa di più dell'amore, per fare un passo in avanti, per aggiungere un tassello in più. È un processo tutto interiore che deve fare da solo. Non c'è relazione con Beatrice. Non è lei che tecnicamente, praticamente, gli fa capire delle cose. Lui da solo deve mettersi nella condizione di lavorare su di sé. Romanzo quasi psicologico diventa a un certo punto. Dante capisce, grazie però all'aiuto di alcune donne che glielo fanno notare, che in realtà Beatrice merita delle lodi non finalizzate per forza ad un saluto o ad una sua partecipazione. Beatrice merita delle lodi a priori. L'appagamento per il poeta deve avvenire esclusivamente attraverso la contemplazione della donna, non necessariamente attraverso la ricerca di una ricompensa. Si sta passando da una fase dell'amore che è quella cortese, quella provenzale, il corteggiamento, eccetera, eccetera, ad una fase invece di amore fine a se stesso, in cui al centro non c'è la ricompensa, ma c'è la lode della donna. Questa è una delle riflessioni più belle della vita nuova se ci pensate. È proprio di ispirazione per la vita di tutti noi. Dante ci sta dicendo che l'amore vero non ha bisogno necessariamente di ottenere qualcosa in cambio. Se proviamo amore davvero, poi il sentimento è già in grado di trasformarci, di migliorarci, di far avvenire dentro di noi un cambiamento. Questo cambiamento avviene perché Dante comincia a lodare Beatrice, assume una matera nuova e più nobile che la passata. Quindi non più la descrizione delle sue sofferenze, ma invece la lode di Beatrice. Proprio in questa parte dell'opera, al centro dell'opera, c'è forse la poesia più famosa di Dante, la poesia anche più bella di tutta la vita nuova, che è tanto gentile e tanto onesta pare. Una poesia che magari tratterò poi singolarmente, prima o poi in un altro video, ma semplicemente, ecco, vi faccio notare che questa poesia è una poesia di lode pura. Beatrice in questo caso sta veramente assumendo i tratti di un angelo, della donna angelo. La sua apparizione per strada, è un'apparizione divina. Le reazioni di coloro che la vedono sono reazioni quasi mistiche. C'è sicuramente una ripresa di Cavalcanti, che è questa che veng con Gnom la mira. Se vi andate a fare il confronto tra le due poesie, si assomigliano molto. Quindi siamo anche, come vi dicevo prima, in un'altra fase del racconto d'amore. Siamo nella fase in cui stiamo sperimentando la poesia cavalcantiana, lo stil novo fiorentino. Ma capirete bene che a Dante non basta. Dante questo genere letterario lo vuole approfondire sempre di più, lo vuole proprio esaurire in qualche modo, a livelli ancora più alti. E quindi non ci si ferma qui. C'è una fase successiva, una fase finale della vita nuova nella quale questo amore per Beatrice diventa qualcosa di puramente spirituale. Il passaggio, cioè, da donna terrena a donna divina sta per essere completato. Innanzitutto questo processo viene completato praticamente perché Beatrice muore. La morte di Beatrice, che era stata preceduta anche da foschi presaggi, arriva improvvisamente e genera nel poeta, oltre che grande disperazione, anche una domanda, cioè fondamentalmente in che modo io posso continuare a lodare l'amore per questa donna. Dopo la morte di Beatrice, Dante continua a lodarla, ma la lode nei confronti di Beatrice è a tutti gli effetti ormai una lode verso un angelo. È la fase dell'amore mistico, possiamo chiamarla così, è la parte conclusiva della vita nuova. È quella fase in cui l'amore per la donna innalza proprio l'uomo fino alla contemplazione di Dio. Ecco, vi avevo detto all'inizio che una Beatrice che abita tra l'altro lì, accanto alla casa di Dante, muore proprio in questi anni. Se la guardate in questo senso e accettiamo che Beatrice sia un personaggio reale, beh, allora l'elemento autobiografico qui è ancora più forte. La vita nuova diventa anche un racconto del lutto. Ci viene cioè raccontato il modo in cui si può elaborare il lutto di una persona amata. Dante lo elabora con quello che conosce meglio, con quello in cui crede di più, la fede. L'amore terreno per Dante è strettamente legato, aggrovigliato all'amore spirituale. E quindi ecco qui che Beatrice diventa una vera e propria creatura del cielo da lodare per questo motivo e addirittura a un certo punto si presenta sotto forma di visione a Dante. E dopo sonetti come Oltre la spera che è più larga gira, l'ultimo sonetto dell'opera, Dante capisce che è arrivato il momento di fermarsi. Ormai la lode per Beatrice si è veramente sovrapposta alla lode che di solito si deve ad una divinità e non può dire di più ormai in quest'opera. Eppure sente dentro di sé che non ha ancora esaurito del tutto l'argomento. Permettetemi di dire che il finale della vita nuova forse è la parte più commovente e più bella di tutta l'opera. Dante si accorge cioè che è arrivato il momento di concludere questo testo che l'amore per Beatrice va oltre questo testo. Straborda in un testo successivo. Dante ci anticipa cioè che ha intenzione di tornare sull'argomento ma in un'altra opera futura. Non basta tutto quello che ha detto di Beatrice non gli basta averle dedicato un'opera intera. Questa donna dovrà tornare. È come dire a se stesso che questa donna sarà sempre presente nella sua vita e per far sì che lei sia sempre presente nella sua vita la renderà sempre presente nella sua scrittura. Vi leggo proprio che cosa dice appresso questo sonetto oltre la spera che più larga gira apparve a me un'admirabile visione nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potessi più degnamente trattare di lei. Questa mirabile visione finale lo convince a non dire oltre a chiudere l'opera della vita nuova ad esaurire definitivamente le sue parole ma a rimandare l'argomento più avanti. Dice mi ripropongo di venire a ciò quanto posso siccome la sai veracemente sicché se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono se Dio avrà piacere di questo che la mia vita cioè duri per tanti anni io spero di dire di lei ciò che non fu mai detto di alcuna. Dante qua si sta proprio mettendo alla prova si sta sfidando da solo dice se sarò in grado in futuro di continuare a scrivere scriverò di lei cose che non sono mai state dette di nessun'altra donna. Badate bene la poesia d'amore è una delle poesie diciamo più frequentate da sempre d'amore hanno parlato i greci hanno parlato i romani hanno parlato le civiltà orientali insomma Dante è consapevole che la poesia d'amore è un mondo infinito nel quale sono state dette cose meravigliose ecco eppure lui è convinto che può dire qualcosa di più non lo ricordiamo di certo per essere una persona modesta qui sta proprio dicendo che dirà qualcosa che non è mai stato detto di nessun'altra e beh possiamo dire col seno del poi che Dio gli ha concesso questi anni per continuare a scrivere e che in questi anni lui ha prodotto la divina commedia nella divina commedia effettivamente immagino lo sappiate tutti Beatrice torna Beatrice è proprio con lei che vuole che Dante compia questo viaggio ed è con lei che poi lo accompagnerà dalla fine del purgatorio per quasi tutto il paradiso Beatrice sarà un personaggio principale fondamentale della divina commedia ed è vero che dirà di lei ciò che non fu mai detto di alcuna trasformare cioè la propria donna amata in un angelo del paradiso che fisicamente ti porta fino alla contemplazione di Dio beh questo non era mai stato detto era un'idea che probabilmente aveva già già sapeva che quest'idea era profondamente originale però al di là del Dante scrittore delle sue trovate del suo ingegno poetico mi piace sottolineare proprio come il tema dell'amore sia affrontato con un riguardo con un rispetto grandioso la donna è in grado nei testi di Dante cioè di compiere definitivamente quell'avvicinamento a Dio che è ciò che di più alto si possa pensare per la vita umana ci sta proprio dicendo che l'amore è il motore di tutto e che supera tutto supera anche la morte non fa niente che Beatrice sia morta non fa niente che Beatrice in passato non lo salutasse più quello che conta è ciò che attiva dentro di noi l'amore ciò che ci permette di fare e dove ci permette di arrivare secondo Dante nei cieli più alti e allora come fa Dante alla fine della vita nuova anche io mi propongo di raccontare su questo canale le altre opere di Dante quindi seguitemi perché prossimamente troverete altro materiale su di lui vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti